Non va bene il modo in cui oggi questo governo sta gestendo questo fenomeno. I 2000 morti nel Mediterraneo, che sono 400 in più rispetto all'anno scorso, a cui sommiamo i 3200 del 2014, sono la cartina al tornasole che dicono che cosa? Che più ci sono partenze, che più mettiamo navi nel Mediterraneo, più gente parte, più gente muore e più gente arriva sui territori. Quindi la politica di gestione che si sta facendo oggi è ovviamente un tentativo di riduzione del danno che deve essere invece gestito e affrontato a monte.